Ciao, mi chiamo Jessica e oggi vi parlerò del nazismo insieme a Matteo per videoripetizioni. La Germania di Weimar vide distrutta la sua tranquillità dagli effetti della crisi del 29. Ci fu una diminuzione della produzione e un aumento di disoccupati e di conseguenza un aumento di conflitti sociali e un aumento dell'inflazione. Fu in questo contesto che subentrò Hitler. Hitler nacque in Austria nel 1889 da una famiglia di impiegati e entrò come volontario a combattere nella Prima Guerra Mondiale. Risentì molto dei trattati di pace tedeschi e ne attribuiva la colpa agli esponenti del governo socialdemocratico e repubblicano perché aveva accettato il trattato di Versailles. Nel 1920 entrò a far parte di un partito di estrema destra denominato Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, che disponeva di squadre militari, SA, che combattevano contro la sinistra. A capo di questo partito tenta un colpo di Stato che però venne stroncato e Hitler venne arrestato e condannato. Quando uscì dal carcere alle elezioni del 28 ottenne pochi voti, ma successivamente nel 1933 registrò un milione in mezzo di aderenti. Questo fu possibile per il suo programma, che era favorito da tutte le classi sociali e ottenne successo nella mentalità postbellica della società. Inoltre univa all'ideologia nazionale socialista e prevedeva una revisione dei trattati di pace e un'espansione della Germania come grande potenza. Inoltre voleva instaurare un socialismo antimarxista basato sui valori della comunità del popolo tedesco. Le parole d'ordine del suo partito era uno spazio vitale e quindi dare la possibilità di esprimere le proprie potenzialità anche se alla fine questo porta a una catastrofe militare. Antimarxismo inoltre era diffusa anche la mentalità social darwinista che giustificava la violenza e la lotta che fanno i poveri per difendersi. Un'altra era antibolshevismo in quanto era diffusa la paura della rivoluzione russa anche in Germania. L'ultima era la polemica antidemocratica che era comune ai movimenti nazionalisti. Hitler diffonde le sue idee con la violenza in maniera persuasiva. Offrì al popolo l'idea di un radicale cambiamento della situazione in Germania anziché un reale programma. Ebbe un elettorato molto eterogeneo concentrato soprattutto nei ceti medi che erano quelli più colpiti dalla crisi. Più avanti ottenne consenso anche nell'elite economico-finanziare militari. Hitler si propose come l'uomo che avrebbe stabilizzato il paese in senso autoritario e quando conquistò l'egemonia all'interno del partito impose il culto del capo che rimenne un principio organizzativo fondamentale. Le strutture militari erano molto aggressive, erano le SA, cioè squadre d'assalto, e SS, cioè squadre di protezione, che seminarono terrore in Germania e anche nell'Europa in generale. Hitler propagandò anche gli ideali dell'antisemitismo e del razzismo e più avanti quello dell'anticomunismo e dell'antivolcevismo. Gli ebrei divennero il capo espiatorio della situazione presente in Germania e venne organizzato un complotto giudaico-bolcevico internazionale per spiegare le sconfitte e le difficoltà tedesche. Gli ebrei erano considerati da Hitler una razza inferiore determinando di conseguenza i tedeschi la razza ariana, cioè quella perfetta. Esplicò la necessità di un antisemitismo programmato ed istituzionale per estinguere questa razza e acquistare i consensi, e divenne anche un punto fondamentale della sua dittatura. L'antisemitismo è il pregiudizio, è l'avversione contro gli ebrei, ma non è nato con Hitler e non è neanche finito con lui. Questo termine è comparso per la prima volta nel 1879 in uno scritto di Mar, che era uno scrittore tedesco. L'avversione verso gli ebrei era nata perché questo popolo era considerato quel popolo che ha rifiutato Cristo, che lo aveva anche ucciso. C'è una distinzione da fare fra l'antigiudaismo su base religiosa e l'antisemitismo moderno, che invece ha un carattere razziale. Alla fine dell'Ottocento l'avversione verso gli ebrei si fuse con un razzismo su base ideologica. Gli ebrei venivano disprezzati e marginati in quanto considerati razza inferiore. Si sviluppò anche un antisemitismo popolare che ebbe motivazioni storico-sociali e psicologiche. Infatti, il fatto che gli ebrei in tutta Europa conservarono una forte identità religiosa accentuò la differenza. Un altro motivo di discriminazione era il fatto che gli ebrei svolgessero attività non permesse ai cristiani, come ad esempio il prestito di denaro. Nel frattempo crescevano gli scioperi e la disoccupazione e il governo di Weimar risultava incapace di risollevare l'economia. La Germania diventava sempre meno governabile politicamente e la propaganda di Hitler si contrappose alla Repubblica Democratica che era incapace di risollevare il paese dalla crisi. Fra il 30 e il 32 ci fu una svolta, in quanto il governo, che era sotto la guida di Brüning, fu costretto a ricorrere all'appoggio sia della destra che della sinistra e a demanare decreti di emergenza. Nel frattempo crescevano gli scioperi e la disoccupazione e il governo di Weimar risultava incapace di risollevare l'economia. La Germania diventava sempre meno governabile politicamente e la propaganda di Hitler si contrappose alla Repubblica Democratica che era incapace di risollevare il paese dalla crisi. Fra il 30 e il 32 ci fu una svolta, in quanto il governo, che era sotto la guida di Brüning, fu costretto a ricorrere all'appoggio sia della destra che della sinistra e a demanare decreti di emergenza. Nel frattempo Hitler aumentava i consensi dell'elite economico-militari, tanto che le elezioni dell'aprile del 31 ebbe il 36% di voti. Nel giugno del 32 il governo venne affidato a von Papen, che marginò le sinistre e cercò di portare Hitler nel governo. Alle elezioni del novembre del 32 il Partito Nazionalsocialista perse potere. Inoltre continuava l'instabilità politica e le SA seminavano un clima propenso a una guerra civile. Nel 33 Hitler divenne cancelliero, ovvero capo del governo tedesco, anche se non tutti lo vedevano come una soluzione alla situazione tedesca. Una volta salito al potere, Hitler estirpò la democrazia e fondò uno stato totalitario. Nel marzo del 33 vennero fatte nuove elezioni e Hitler ebbe il 44% dei voti, che sommato all'8% dei nazionalisti, che erano suoi alleati, contribuirono a far riavere la maggioranza assoluta. Una volta avuta questa maggioranza, Hitler mise fuori legge i partiti antinazisti e abolì i giornali delle opposizioni e le serie sindacali. Inoltre venne sciolto il Partito Nazionaldemocratico. Hitler ottenne dal Parlamento i pieni poteri e il nazismo rimase l'unica forza attiva in Germania. Nel marzo del 33 venne costituito a Rakao il primo campo di concentramento per i prigionieri politici. Nel 34 Hitler divenne anche capo dello Stato.